questo è l'ultimo aggiornamento di justin shire un bodybuilder che sono molto curioso sul palco perché combina quell'aspetto estetico del classic con la massa della open e un fisico secondo me molto bilanciato e abbastanza completo salvo fatto per la schiena che non è proprio il massimo e questo potrebbe penalizzarlo abbastanza però sono curioso di verlo sul palco perché sembra definito sembra pieno sembra comunque pronto per salire sul palco dell'olimpia io non penso che possa ambire a più di una top 15 top 15 però secondo me può dire tranquillamente la sua contro altri bodybuilder magari un po meno blasonati gente che comunque non ha un fisico eccezionale di sicuro può fare bene però senza esagerare io la vedo così poi cerco sempre di portare aggiornamenti di tutti i bodybuilder non solo i soliti noti quindi ci stanche a parlare di justin shire che sia quest'anno non conoscevo mi fa sempre piacere vedere bodybuilder nuovi quando ci sono le gare primaverili ed estive quindi anche questo è abbastanza interessante continuando a parlare di andrea presti anche oggi come ha detto ieri ha pubblicato in queste ultime due settimane tutti gli elementi che ha pubblicato il resto dell'anno e ha pubblicato questa foto che lui chiamava moon pose non l'avevo mai sentita questa posa a detta sua è una posa che veniva usata molto spesso in passato per far vedere la definizione delle gambe e comunque della catena posteriore non penso che la farà sul palco però ci sta come aggiornamento perché fa vedere appunto dei dettagli sui femorali striature sui glutei una posa interessante per instagram dubito fortemente che la proporrà sul palco però è interessante perché fa vedere anche altri aspetti del fisico che magari sfuggono un po quando si sale sul palco e non ho dubbi che farà una buona figura quest'anno all'olimpia che migliora la posizione dell'anno scorso di due anni fa e come ho già detto fa bene pubblicare tanti aggiornamenti perché porta la gente a parlare di lui a parte me che chiaramente non mi si incula nessuno però canali più grossi negli stati uniti parlano di di presti e secondo me in uno sport anzi una disciplina dove la soggettività è importante quanto l'oggettività essere un nome noto fa fa bene e non male come dice nico bortis e se non sapete chi è nico bortis cercate su youtube perché troverete una perla cagliaritana che vi farà bene e non male perché è una sorta di video leggendario quindi vi consiglio vivamente di cercare l'intervista fatta a nico bortis di non lo so forse 20 anni fa però è una perla assoluta passando a michael crizzo sembra sempre più disumano per quanto riguarda la definizione e anche lui è un bodybuilder che si definisce bene ha una pelle molto sottile non penso che abbia problemi a definirsi perché è sempre molto molto in condizione le braccia sono la sua parte del corpo migliore forse anche troppo nobile rispetto ai dorsali come ho già detto tante altre volte guardate anche deltoidi secondo me sono troppo grossi rispetto al trapezio sono un po sproporzionati e secondo me questa sproporzione gli fa più male che bene perché mette in ombra delle parti del corpo che sono già un po carenti nello specifico i dorsali i glutei il bodybuilding è una disciplina dove bisogna essere grossi bisogna essere definiti ma bisogna essere anche simmetrici e proporzionati i muscoli devono essere proporzionati con gli altri muscoli c'è un deltoide non può essere più grosso dei glutei assolutamente quindi per quanto mi piaccia tantissimo va detto che ci sono dei problemi genetici perché non penso che avrà mai dei glutei alla ron colman o alla philip perché la forma è quella e credo che abbia problemi a farli crescere questo è quello che penso io però nonostante ciò io penso che sia un bodybuilder da top ten olimpia meritatamente e mi piace davvero tanto anche per questo suo aspetto cartunesco mettiamola così davvero una specie di cartone animato per la rotondità e la densità dei muscoli dalle braccia soprattutto del petto passando infine a Derek Lansford ha pubblicato questo post dove ha scritto going for it quindi vado per questo per il primo posto si intende dove fa anche il gesto con l'indice e vedremo se andrà davvero per il primo posto e se i giudici gli daranno il primo posto io non lo so sinceramente come andrà questo mister olimpia penso che la sfida sarà tra lui e Adi Chupan come ho detto tante volte però Adi ha dalla sua una definizione davvero fuori dal mondo è sempre il più definito dal 2019 quando ha fatto sua prima apparizione sul palco dell'olimpia Derek non è il più definito almeno frontalmente questo è un video pubblicato su youtube ed è dal 23 ottobre quindi qualche giorno fa però io non credo che in una decina di giorni cioè da quando ho fatto questo video a quando stare lì sul palco del mister olimpia ci sarà un miglioramento sconvolgente nella definizione questo è l'aspetto che mi preoccupa di più tra virgolette mi preoccupa chiaramente perché se i giudici daranno peso alla definizione allora Derek sarà in difficoltà perché non è assolutamente definito come Adi poi se i giudici invece premieranno l'aspetto il colpo d'occhio la grazia mettiamola così le linee più estetiche di Derek rispetto a una struttura meno estetica come quella di Adi allora ci può stare che vinca Derek però come detto non siamo nella testa di giudici non sappiamo cosa forranno i giudici al momento Derek non mi pare particolarmente definito di sicuro meno di Adi Chupan che è definito tutto l'anno questo frontal bicep è molto nobile per struttura, per colpo d'occhio però c'è un problema di separazione nelle braccia quindi non è sicuramente un maestro di definizione nelle pose frontali nelle pose posteriori è molto molto definito però frontalmente perde malamente contro Adi Chupan che è uno che ha striature e graniticità dappertutto anche nelle pose frontali quindi cosa vogliono i giudici? Non si sa premieranno la definizione di Adi o premieranno la struttura di Derek vedremo per questo è impossibile fare previsioni perché non siamo nella testa di giudici non sappiamo cosa vogliono i giudici io personalmente prediligo Derek però mi piace tantissimo il fatto che Moody Builder sia granitico e definito quindi vedremo l'attesa sta per finire buona? grazie a tutti grazie a tutti